Lo starter del via partito in questo momento con il numero uno di Adelio, al comando all'interno c'è Steppo Wind, cavalli che completano la prima parte di tragitto sulla dirittura davanti alle tribune con Adelio che punta dritto per andare al comando, reagisce Steppo Wind che adesso è alla corda in testa, in pariglia con Adelio. I due prendono margine di vantaggio a Coloxa, cavalli che vanno a completare la prima delle due piegate del percorso, posizioni che sostanzialmente non cambiano con Steppo Wind e Adelio a condurre questo premio Odo Acre. Si va sulla retta opposta a quella di arrivo con i due cavalli sempre in allotta, poi c'è Coloxa e a chiudere il numero cinque di Real Acclamation. Si completa anche la dirittura di fronte, si va sull'ultima piegata con Adelio che è passato a condurre su Steppo Wind. In terza posizione si profida Coloxa e Magherita della Pietra, cavalli a metà dell'ultima piegata con Coloxa che cerca di migliorarsi e punta su Steppo Wind. Intanto Adelio è sempre al comando, così all'uscita dell'ultima curva con Adelio che sta per affrontare la retta conclusiva al comando. Adelio in testa, Steppo Wind che perde qualche battuta, percorsi interna Exotic Horse all'esterno Coloxa, al comando c'è Adelio, si migliora ancora Exotic Horse percorsi interna, Adelio deve respingere l'attacco. Ci prova ancora Exotic Horse, Exotic Horse alla meglio in prossimità del palo sul numero uno di Adelio, mentre per il terzo posto probabilmente ancora Steppo Wind a contenere il finale di Coloxa che può essere soltanto quarta.